Ciao ragazzi, bentornati sulla mia pagina. Allora, sono appena arrivato da fare un po' di footing perché quest'anno la mia prova costume è stata veramente fallimentare. Mia moglie, che lei ha sempre un fisico da super figa perché sta sempre a dieta tutto l'anno, ogni tanto a spiaggia mi guarda con un'aria di disprezzo e di conseguenza tenendo presente che sono anche un tipo un po' scontroso e non facile da convivere insieme, penso che prima o poi se ne troverà un altro. Di conseguenza ho iniziato proprio l'altro giorno a fare un po' di dieta e ho iniziato ad andare a correre. Bene, cos'è che dicono gli alimentaristi? Non fate mai la dieta pochi giorni prima che dovrete andare al mare perché è inutile e nello stesso tempo non sforzate il vostro fisico con delle corse o delle altre cose un mese o due prima di andare al mare, dovreste farlo tutto l'anno. Bene, io che cosa faccio? Sento i filmati di questi alimentaristi, poi faccio come fate voi con me, sentite tutto e poi fate quello che cazzo che volete. Ecco, io in certe cose faccio uguale, ecco perché vi capisco nei vostri atteggiamenti. Allora, l'argomento di oggi, tanto vi presento la mia cagnolina super che si chiama Unica, un bel giorno vi racconterò la sua storia. oggi vi vorrei parlare appunto di questo rapporto che può esserci fra un cane e i bambini. Guardate, in un momento storico dove ci è vietato tutto, dove stiamo tutti faticando, una cosa che ci è ancora concessa è quella di illuderci che il nostro cane ci ami. E se questo ci fa vivere meglio, noi abbiamo il dovere di farlo, se poi teniamo ancora presente che la gente non è così altruista, quindi è meglio che pensi che il cane li ama, perché magari in cambio daranno anche un po' di amore al cane, mentre bisognerebbe amare il cane, sapendo che lui, essendo solo un animale, non può amarci, ma rimane con noi per altri motivi, se tutto questo può servire al benessere degli animali, benvenga. Che cos'è che però noi dobbiamo fare come considerazione? Ci dobbiamo chiedere perché il cane ci dovrebbe amare. Ci dovrebbe forse amare perché noi, quando è cucciolo, l'abbiamo tolto dalla mamma? Ci dovrebbe forse amare perché non gli abbiamo permesso di continuare la sua vita insieme ai fratelli? Ci dovrebbe amare perché non gli abbiamo concesso di fare un'esistenza di branco, come aveva previsto la natura? Ci dovrebbe amare perché lo portiamo a casa nostra e spesso non gli concediamo neanche di vivere con un altro compagno di sesso opposto. Ci dovrebbe amare perché lo sterilizziamo, perché non lo lasciamo riprodurre, perché da piccolo, quando ci sporca in casa, lo sgridiamo, perché lo portiamo con noi e decidiamo noi i percorsi, perché gli imponiamo di defecare, di sporcare agli orari che vogliamo noi, che lo portiamo al ristorante per sentire tutti gli odori dei cibi che noi mangiamo e lo mettiamo sotto il tavolo. Ecco, ci dovrebbe amare per tutti questi motivi. Quindi vedete che se noi iniziamo a riflettere, al di là di questa parvenza che oggi ha la società di buonismo, capiamo che il cane rimane legato a noi per altri motivi. Però, come vi dicevo prima, illuderci che il cane ci ama, se ci fa star meglio in questi momenti non così facili, può essere anche un aiuto a una nostra migliore esistenza. Ma laggiù dove ci sono dei bambini, specialmente se siete genitori, avete l'obbligo di capire le cose e di riflettere bene su quello che dovete fare. Chi siamo noi, in fondo, per i nostri cani? Beh, innanzitutto i datori di cibo. Quindi i nostri bambini saranno dei piccoli datori di cibo. Quando voi crescete un cucciolo in famiglia, non basatevi su cosa vedete magari che fanno fra i cuccioli che giocano. La natura non prevede mai il gioco a titolo ludico, perché la natura non prevede che gli animali possano sprecare le loro energie. Gli rende tirchi di energia, perché in natura non c'è mai la certezza di poter ottenere altre energie per poter sopravvivere. Quindi, essendo il cibo incerto, la natura fa sì che gli animali facciano sempre qualcosa finalizzato e mai così per gioco come facciamo noi. Noi possiamo permetterci di sprecare energie, ma gli animali no. Quindi, quando gli animali giocano, in teoria cosa fanno? Fanno in pratica un po' quello che facciamo anche noi. Quando noi facciamo una partita a carto, una partita a tennis, una partita al pallone, anche solo una corsa, una qualsiasi cosa, inneschiamo una competizione. In questa competizione deve esserci un vincitore. Quindi, che cos'è che fanno i cuccioli quando giocano? In effetti stanno cercando una strategia di competizione fra di loro, un po' perché devono stabilire la gerarchia, ma anche per conoscere meglio quelle che sono le strategie del compagno che può essere sia membro dello stesso branco, ma un bel giorno potrebbe anche essere un soggetto col quale loro potrebbero avere delle conflittualità per la sopravvivenza. Quindi, toglieteli dalla testa che i cani giocano semplicemente per giocare. I cani giocano perché hanno un programma esistenziale ben preciso. Ecco, questa cosa deve avvenire il meno possibile con i vostri figli, perché io che allevo cani da tanti anni, vedo sempre che il gioco fra i cuccioli, il gioco fra i cani, sfocia sempre in un'aggressione. E noi non la vogliamo l'aggressione a carico dei nostri figli. E vi garantisco che non è sufficiente aver adottato una razza piuttosto che un'altra per garantirsi che non ci sono aggressioni. Io mi occupo di aggressioni da tanti anni. E vi posso dire che quando un cane aggredisce il bambino, non è mai colpa né del cane né del bambino, ma la colpa è dei genitori. Quindi, mettersi in testa questa illusione che i cani possano amare i bambini, e peggio ancora, come fanno molti, che possono amare tutti i bambini, quindi anche gli amici esterni alla famiglia, è una vera pazzia, perché ogni giorno qualche bambino ne porta le conseguenze per la stupidità dei genitori. Quindi noi che siamo grandi, se vogliamo vivere di illusioni, lo possiamo fare, perché paghiamo, e a volte pagare, io ne seguo molte persone che sono state emorsicate dal proprio cane, ci dà uno sprone per iniziare a capire gli animali, cioè a amarli in quello che sono nella loro natura, e non in cosa sono invece nelle nostre fantasie, nelle nostre illusioni. Quindi, mi raccomando, se voi avete dei bambini in casa, esistono tutti dei sistemi per crescere bene il bambino al fianco a un cane. Siccome me l'han chiesto molti, non so quando, ma prima o poi vorrò fare anche un piccolo videocorso per insegnare ai genitori a crescere i cani al fianco dei loro bambini. Ma per adesso vi dico, mantenete questa posizione sociale che il cane li riconosce, ovvero dei piccoli datori di cibo, lasciateli pure che li accarezzano, ma non invitateli a fare dei giochi come fossero giochi che fanno con i loro compagni. Non fateli fare la lotta, cercate di non farli giocare troppo sul divano, cercate di fare molte cose, come dire, cercate di evitare molte cose che sono poi proprio la partenza delle aggressioni più gravi sui bambini. Spero che questo video vi sia stato utile. In questo video io prevedo già che ci sarà l'imbecille di turno che dirà no, i miei bambini, i miei cani giocano tutto il giorno, continueranno a farlo, perché io sono sicura che non succederà niente. Però il mio appello è ai genitori, adesso che viene l'estate, improvvisamente ci sono brutte aggressioni e non sapendo dare spiegazioni si dice che il cane è impazzito. I cani, è difficilissimo che impazziscono, io in 50 anni non ho mai visto un cane impazzito. E invece è possibile che il rapporto che noi stimoliamo fra bambino e cane sia assolutamente sbagliato, sottovalutiamo che il cane è innanzitutto un animale e non ci azzecca niente con noi e quindi poi succedono questi disastri. Vi ringrazio tanto di avermi ascoltato in questo filmato, spero veramente per me che riuscirò a mettermi in forma in questi pochi giorni perché voglio fare una figura smagliante sulla spiaggia e vi auguro buona giornata. Ciao ragazzi! Ciao!